Ma quindi ti danno tutti i permessi che vuoi? Se sto qui... E io potrei uscire dal rehab. Se te la senti, sì. Ma certo che me la sento. Mi dichi ancora con Don Manfredi? No, no, ma che scherzi, no, anzi, assolutamente. Abbiamo un rapporto stupendo, fatto di confronti, giusto? Ecco, qualche scontro, ma solo sulle modalità di costruzione delle madonna. Alberto, avrei a che fare tutti i giorni con ogni tipo di droga, non è che poi vai alla fine dell'altra volta. Stai tranquillo, te lo giuro, non ho più nessun problema con la droga. Guarda che è una cosa seria. Abbiamo un'occasione unica. Possiamo porre rimedio a tutti i casini che abbiamo combinato, però non possiamo sgarrare. Pietro, ti supplico, fammi uscire da qua, non ce la faccio più a fare madonna. Niente più mignotte, niente più cappotti di lana di lontra da 10.000 euro, niente più macchine sportive, ma soprattutto niente droga. Niente mignotte, niente cappotti, niente macchine. Ricevuto. No, al beh, niente droga. Niente droga, giuro, te lo guarda che la prima cazzata sei fuori, eh? Sì, Pietro, però, io devo tornare a fare la chimica, devo tornare sul campo, poi facciamo tutte le cose che hai detto tu, analizziamo le droghe, e scopriamo chi le fa, come le fa, lo scopriamo e poi andiamo lì e... Ecco, di preciso poi, che facciamo?